Riprendiamo la nostra trattazione della regione nordica dalla Norvegia. La Norvegia confina a nord col mar del glacial e artico, a est con Svezia e Finlandia, a ovest con l'oceano atlantico, a sud col mar del nord. Ha una densità di popolazione molto bassa, è una monarchia parlamentare con una religione a maggioranza protestante, ma con la presenza anche di cristiani e musulmani, il che indica presenza di immigrazione. La lingua norvegese è la moneta e la corona norvegese, perché la Norvegia, dopo ben due referendum popolari, ha deciso di non aderire all'Unione Europea. È lo stato più a nord di Europa, il mare penetra nell'entroterra attraverso delle profonde valle glaciali chiamate fiordi, che sono appunto antiche valle glaciali con parete molto ripide, quasi verticali, chiamate fiordi, tipici del paesaggio del nord della Norvegia. Il territorio è prevalentemente montuoso, il paese è attraversato quasi totalmente dalla catena delle Alpi Scandinave. I fiumi sono brevi ma ricchi d'acqua, numerosi sono i laghi di origine glaciale. Il clima è subartico al nord, temperato freddo al sud, per il beneficio portato dalla corrente del Golfo del Messico. La Norvegia è ricchissima di isole, di cui gli arcipelevi più grandi si trovano nella parte del nord. Per quanto riguarda la storia della Norvegia, anche i norvegesi discendono dai vichinghi, prima divisi in piccoli regni, poi unificatisi nel IX secolo d.C., dopo essersi convertiti al cristianesimo, dal XIV secolo passa sotto il dominio danese fino al 1815, quando passa ulteriormente sotto il dominio svedese. Nel XX secolo diventa indipendente, e una monarchia parlamentare, dopo due preferenze, un popolare come detto, ha deciso di non aderire all'Unione Europea. Dopo l'Islanda è il paese meno popoloso d'Europa, con i suoi 5 milioni di abitanti, concentrati soprattutto lungo le coste meridionali, dove il clima è meno freddo. La maggioranza delle popolazioni è detenere i norvegesi, ma con una minoranza a Sami, un'antica popolazione, Lappone, dei territori del nord, a cui si è ispirato Tolkien, il Signore degli Anelli, per descrivere la popolazione degli Elfi, perché questa antica popolazione, Lappone, è molto legata alla natura, molto ecosostenibile come popolazione. La Norvegia riesce a mantenere un salto democratico attivo, nonostante la scarsa natalità, grazie a una massiccia immigrazione, che però genera degli episodi di intolleranza da parte di estremisti di destra, alcuni con episodi molto sconcertanti, come nel 2011, quando un folle sparò armato di Kalashnikov a 77 persone. Per quanto riguarda l'economia, è il terzo paese più ricco d'Europa, ha il reddito pro capite più elevato al mondo, oltre a essere al primo posto per i sui indice sviluppo umano, il che vuol dire che presenta, oltre a ricchezza, ottimi servizi per i cittadini, sia nel campo dell'istruzione che nel campo della sanità. Insomma, in Norvegia si vive bene. Non è molto favorevole il territorio all'agricoltura, ma hanno un certo sviluppo l'allevamento del ovino e delle renne, soprattutto nel nord, nella tundra Lappone. La sua vera risorsa è l'abbondanza di risorse naturali, soprattutto i legname sulla terra e il pesce nel mare, soprattutto a ringhe merruzzi, ma soprattutto i giacimenti di petrolio e gas naturale nel mar del nord, estratti attraverso piattaforme. Molto sviluppato il commercio marittimo, la Norvegia possiede la flotta commerciale più grande del mondo. La Svezia confina a nord con la Finlandia, a est con il mar Baltico, a ovest con la Norvegia, a sud sempre con il mar Baltico, anche essa ha una bassa densità di popolazioni, 21 abitanti per chilometro quadrato, la capitale è Stoccolma, è una monarchia parlamentare, mantiene la sua valuta, cioè la corona svedese, pur facendo parte dell'Unione Europea. Vedete che la maggior parte degli abitanti è di religione protestante, ma c'è una notevole percentuale di musulmani, il che indica che anche in Svezia c'è una notevole immigrazione. Il territorio della Svezia si può tranquillamente dividere in quattro fasce partendo da nord. All'estremo nord abbiamo la Lapponia, ricoperta di arbusti, muschi e licheni, la cosiddetta tundra, e d'inverno completamente coperta di ghiacci. Poi abbiamo la regione del centro nord, o Norland, che comprende il versante orientale delle Alpi Scandinave, che va digradando gradualmente sempre verso il mare. Il clima è molto rigido, troviamo foreste di conifere e betulle, la cosiddetta taiga. Al centro-sud c'è la Svealand, una vasta pianura con numerosi fiumi e laghi di origine glaciale. Mentre a sud, nel Gotland, si alternano pianure e colline, ed è ricco anch'esso di laghi glaciali. Il clima risente di meno dei benefici della corrente del Golfo perché a causa della chiusura che apporta la Darimarca, qui, Nermal Baltico, che non permette pienamente alla corrente del Golfo di penetrare lungo le coste svedesi. Per quanto riguarda la storia, la Svezia è abitata sin dal II secolo dai Goti e dalla tribù vichinga dell'Isvear. Già nel Medioevo diventa una delle più solide monarchie europee. Nel XVI secolo, con Gustavo I Vasas, aderisce alla riforma protestante e ottiene l'indipendenza dalla Darimarca, divenendo nel XVII secolo una delle più potenti monarchie europee. È una monarchia parlamentare, neutrale durante le due guerre mondiali e dal 1995 aderito all'Unione Europea senza aderire all'Unione Monetaria, quindi non adottando l'euro. La popolazione è concentrata per l'80% nel Gotland, nella parte più meridionale del paese. L'etnia prevalente è quella svedese di origine nordica, ma ci sono minoranze finniche e lapponi. La minima crescita demografica è compensata dalla massiccia immigrazione soprattutto dai paesi islamici, Turchia, Iraq e Nordafrica, che, nonostante siano accolti benissimo in Svezia, sono spesso soggetti a episodi di razzismo da parte di movimenti estremistici. Per quanto riguarda l'economia, l'agricoltura non è molto sviluppata, solo il 6% del territorio è coltivabile, si producono cereali, patate, foraggio per l'allevamento bovino, che a sua volta produce latte e derivati, mentre a Nord si allevano renne e animali da pelliccia. È ben sfruttata la pesca, ma soprattutto le foreste, che alimentano l'industria del mobile, della cellulosa e della carta. È ricca di minerali, soprattutto ferro, rame, zinco, piombo, oro, ma anche uranio, che alimenta le centrali nucleari. Produce un notevole numero di automobili, ricordiamo la casa automobilistica svedese Volvo, e aerei e materiali ferroviari. Ma sono presenti in Svezia dei grandi gruppi multinazionali che favoriscono l'export come che alimenta il 40% del prodotto interno nord, come l'IKEA, la grande multinazionale del mobile, e H&M, la grande multinazionale dell'avvigliamento. Per quanto riguarda l'alto livello dei servizi sanitari dell'infanzia e per la terza età, il paese della Svezia è famoso al mondo. L'ultimo paese della penisola scandinava è la Finlandia. Confina a nord con la Norvegia, a est con la Russia, a ovest con la Svezia, e a sud con il mal baltico. Ha una bassa densità di popolazione, vedete, 16 abitanti per km2, e una repubblica parlamentare aderito non soltanto all'Unione Europea, ma anche all'Unione Monetaria, quindi adottato l'euro. Nell'estremo nord il clima è subartico, con inverdi lunghi e restati brevi. Il paesaggio è dominato dalla tondra, mentre l'inverno è completamente ghiacciato. Nella parte centro-meridionale il territorio è pianeggiante, e con il grande ripiano dei laghi, con oltre 60.000 laghi, numerosi fiumi, brevi ma spesso ghiacciati, è dominata dalla taiga, ossia le fitte foreste di conifere e betulle, mentre le coste si presentano basse e frostagliate e coronate dai solette. È un paese abbastanza giovane, ha ottenuto l'indipendenza nel 1917, precedentemente ha subito l'influenza della Russia e della Germania durante la Seconda Guerra Mondiale, poi di nuovo della Russia. Oggi è una repubblica parlamentare, entrata nell'Unione Europea nel 1995, di cui ha adottato anche la moneta. La popolazione norvegese è concentrata al sud del paese, non sono di etnia nordico-vichinga, ma discendenti dei finni, un'antica popolazione asiatica, mentre nel nord vivono invece i Lapponi, i più antichi abitanti della Scandinavia, che sono pastori nomadi, allevatori di renne. Solo il 7% del territorio è coltivato a orzo e cereali, ortaggi e frutta, mentre è sviluppato l'allevamento dei bovini e dei suini, soprattutto nei pascoli della Lapponia, dove si allevano anche renne e animali da pelliccia. Si pescano soprattutto le aringhe, la risorsa principale sono le foreste, che alimentano l'industria del legname, che è la prima al mondo, e l'industria del mobile e della carta. Il commercio estero è molto attivo e il turismo è favorito dalle sviluppatissime vie di comunicazione. Infine parliamo insieme di tre paesi che hanno molte affinità dal punto di vista territoriale, ma anche etnico-culturale. L'Estonia, la Lettonia e la Lituania hanno una densità di popolazione simile, sulla trentina di abitanti per chilometro quadrato, sono delle repubbliche, infatti vengono dette repubbliche baltiche, fanno parte dell'Unione Europea e hanno adottato tutte e tre l'euro. Il territorio è per lo più pianeggiante, con pochi rilievi collinari di modesta altezza, una buona parte della regione è coperta di foreste, il 45% in Estonia e Lettonia, il 30% in Lituania, e il clima è temperato freddo. D'inverno spesso le coste sono, l'accesso alle coste è impedite da una fitta, da una spessa banchisa di ghiaccio, che rende disagevole la navigazione. La popolazione, nella popolazione, le etnie più diffuse sono quella lituana e lettone, 70-75%, mentre l'estante 25-30% è di etnia russa. La popolazione è in calo a causa dell'emigrazione e della carenza di nascite. Il lettone e il lituano sono delle lingue molto affine al russo, mentre l'estone è molto affine al finlandese. La maggior parte della popolazione si dichiara non credente, il 20% è protestante, il 15% ortodosso. Dal 2014, le tre repubbliche baltiche fanno parte dell'Unione Europea e della Nato. Qui vediamo alcune caratteristiche delle capitali delle tre repubbliche baltiche. Riga, la capitale della Lettonia, si affaccia sul bar baltico, fece parte della lega ansiatica durante l'alto medioevo, raggiunse la massima estensione alla fine del XIX secolo come città industriale dell'impero russo. All'inizio del Novecento, Riga è una città multietnica, abitata da tedeschi russi, essoni e lituani, polacchi ed ebrei. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, i tedeschi fuggirono e gli ebrei furono deportati in Siberia dai sovietici. Oggi è una grande meta turistica per il suo interesse artistico-culturale. Vilnius, la capitale della Lituania, prima della Seconda Guerra Mondiale, ospitava il 30%, era abitata per il 30% da ebrei, tanto da essere chiamata la Gerusalemme del Nord. Oggi sono poco più dell'1%, dopo lo sterminio nazista e le deportazioni sovietiche. È uno dei maggiori centri finanziari delle Repubbliche Baltiche con un turismo in crescita grazie al suo centro storico barocco, il più grande del mondo e patrimonio mondiale dell'umanità. Fa parte dei patrimoni dell'UNESCO. Tallinn, la capitale dell'Estonia, fece parte anch'essa della Lega Anseatica durante il Basso Medioevo e il maggior porto estone, molto attivo nei commerci con la Strandinavia, il suo bellissimo centro storico è stato in parte bombardato e ricostruito dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma la sua atmosfera medievale è rimasta intatta e raffascina molto i turisti. Per quanto riguarda l'economia, il punto di forza è il settore industriale, anche se si fatica a reperire la mano d'opera visto il calo demografico. In netta crescita il settore del software gestionale dei video games, pensate che le Repubbliche Baltiche sono il punto della terra più connesso al mondo. Il turismo è in grande crescita e il settore primario è alimentato soprattutto dalle foreste. Con questi tre paesi si conclude la regione nordica. Arrivederci.